DAGLE! 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 Sì! Solo noi! Solo noi le possiamo fare queste cose! Solo noi! È finita! Tra uno è fare in culo a casa! Solo noi le possiamo vincere queste partite! Mettetemelo qua dentro! È finita, sì! L'impossibile è accaduto! L'impossibile è successo! 3 a 1! Che cazzo abbiamo vissuto stasera? Sì! Mamma mia! L'infarto a livelli di Milan-Napoli nella Champions League! 3 a 1! I corsari! I galattici! 3 a 1! Leao! Questo sei Leao! Sei questo! Cazzo! Cazzo questo sei! Ficcatelo in quella zucca palata che c'hai! Mamma mia che serata! Che serata! Madre l'addio madre! Oh Gesù che godimento! Mamma mia lasciami stare! Oh sono già arrivato! Lasciami stare ti prego! No ti prego lasciami! Ah a posto così! Questo è meglio della fregna! Meglio della fregna! Stai là! Stai al tuo posto! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Cosa ho vissuto stasera! Aspetta! Non ci credo ancora! Aspetta! Non ci credo ancora! Aspetta! Non ci credo ancora! Mamma mia che partita! E che cos'è? Musa Emerson Royale ai livelli di Maicon e Cafu! E che cosa sono queste robe qua! Che partita di tutti! Di tutti! Subito! Siamo partiti noi meglio per la prima volta nella storia del calcio! E gol di ciao! E poi c'è stato il gol di ciao! Il gol di ciao! Subito dopo una piccola sbavatura di Emerson Royale che come un pollo si fa frecare da Vinicius che poi segna il rigore! Vinicius! Caro il mio Vinicius! Adesso non è perché non ti hanno dato il rigore e c'avevi un buco di culo grosso così perché ti rodeva, ti prudeva proprio! Eh non è che devi rompere tanto il cazzo! Vattene a fare in culo a casa! Tu e Rudiger soprattutto! Tu e Rudiger! Fuori dai coglioni! Fuori dai coglioni! Grazie Carlo! Grazie Carlo! Tu oltre al Real Madrid tu hai questo stampato in faccia! Tu hai questo! Momento copertina! Tu hai questo! Grazie Carlo! 1 a 1 ma poi dopo non ci siamo persi d'animo! Chi cazzo l'ha fatto il 2 a 1? Già me lo sono dimenticato! Chi ha segnato? Ciao! E Morata! Albaruccio nostro! Albaruccio nostro! E questo è quello che ti chiediamo! E poi non esulti! 2 a 1 andiamo a riposo tutti quanti eh! Ma ancora è lunga! E invece siamo entrati coi coglioni quadrati così! Coi coglioni quadrati così! A sbattergli in faccia questi! 15 Champions League! Il Milan solo! Il Milan può fare queste cose! E questo non è neanche il Milan! Se proprio stiamo a vedere! Questa è una vittoria che adesso ci dà un morale! Che se voi adesso andate a Cagliari e non vincete 3-4-0 veramente! Io vi sparo! Madre mia! Che cazzo di serata! Che godimento assoluto! Che godimento assoluto! E caro Rafa Leao! Quando giochi così! Io non lo so che cosa! Io non lo so il rapporto che ho io con te! Non lo so come si potrebbe definire il rapporto che io con Leao! Gli ho augurato di rompersi male! Gli ho augurato veramente le peggio cose! Ma poi quando fa quelle robe lì! Ma quando fa quelle robe lì! Ma che cazzo tu soltanto tu lo puoi fare! Tu stasera hai giocato alla Vinicius! E perché non lo fai almeno 20 volte all'anno? Perché? Perché? E poi ti ci mette il puntino esclamativo! In questa serata magnifica! 15 anni dopo si ripete ancora la storia! Si ripete la storia! Cazzo! Si ripete! AC Milan 3! Real Madrid 1! Chi è che va al Santiago Bernabea a vincere? Chi? Fatemelo conoscere! Chi? In Italia! Chi è che è capace di queste cose? AC Milan! Cazzo! E tutta l'attenzione ragazzi! Scusate! Ci voleva una serata del genere! Ci voleva! Ci voleva! E questa è la grinta che ci dovete mettere! La mia stessa grinta ce la dovete mettere e ce l'avete messa! Tutti quanti! A partire da Emerson Royale nota di merito! A partire anche da Musa nota di merito! Ciao! Ciao! Ciao meglio di Tomori oltre per il gol! Ma poi ragazzi! Lasciatemi soffermare! Se voi fate scendere dall'aereo Maignan! E non vi presentate con quella cazzo di cartellina con il rinnovo! Veramente! Veramente! Non lo so quello che faccio eh! La cartellina con rinnovo! La firma in bianco! Quello che vuoi ti do! O Magiku! Come soprannominato da me! O Magiku! Magic Mike Magnani! Il portiere più forte del mondo! Stasera l'ha dimostrato anche! Uffla! E l'esaltazione ci sta! E voglio vedere cazzo! Vai a vincere contro il Real in casa del Real! Voglio vedere se non ti esalti! Voglio vedere chi non lo fa! Lo voglio proprio vedere! Che partita ragazzi! Che partita! Dominata in lungo e largo dal primo all'ultimo minuto! Si poi loro nel recupero hanno cercato di fare qualcosina ma ragazzi stasera dal primo al minuto al novantesimo i galattici quelli con la maglia blanca siamo stati noi! Siamo stati noi! Partita perfetta! Grande Fonseca anche coi campi! Poi dopo sono entrati e è entrato Calabria che un attimo di paura me l'ha messa! Abram! Mamma mia Abram! Mamma mia Abram! Forse è l'unico peggiore in campo nonostante sia entrato nella panchina Abram! Ma stasera proprio nessuno è peggiore! Stasera nessuno e soltanto noi possiamo fare queste cose! Mi dispiace per tutti voi che stasera state... Sicuramente c'è qualcuno l'interista, il juventino, il romanista, il napoletano ma soltanto noi possiamo fare queste cose! È inutile che ci proviate! Possiamo scendere in campo con Svoboda, con Antonino Gallo, con Pellegri, con Haps! Possiamo scendere in campo con chiunque quando il Milan si mette questa maglia qui Chiunque può fare... Chiunque con questa maglia qui può fare il cazzo che vuole! Di sopra in tutti i campi del mondo! In tutti i campi del mondo! E chi cazzo se l'aspettava? Sei punti! Sei punti! Mamma mia! Nudo sono sceso! Ma ci sono tre gradi! Ci sono tre gradi! Ma c'ho caldo! C'ho caldo! C'ho caldo! Mamma mia che serata! E non sono neanche tanto lucido stasera, non mi interessa! Ma è una partita favolosa! Una partita che veramente... Neanche il derby mi ha dato... Neanche il derby dello Scudetto mi ha dato queste vibes! Come le dicono quelli bravi! Le vibes! Neanche il derby dello Scudetto dove si è girato Girù! Magnifici! Magnifici cazzo! Magnifici! Basta! Che cazzo devo dire? Ragazzi abbiamo vinto 3 a 1! Serata spettacolare! Magnifica! Bellissima! Fantastica! Come cazzo lo avete definito? Poi se vedo migliori in campo Emerson Royale e Musa! Mi pare di vivere un sogno! Mi pare di vivere un sogno! Mi sta facendo male lo stomaco! Veramente! Uh! Mamma mia! Mamma mia! Infarto stasera! Mamma mia! Mamma che serata! Stai venendo a piangere! Mamma mia! Oh! Meglio della figa! Queste serate qua sono meglio della figa! Confermo ragà! Lo confermo! Lo sottoscrivo! Ci vediamo romani ragà! A freddo! A freddo! Sempre solo forza mia! Sempre solo forza mia! E solo noi lo possiamo fare queste cose! Guarda qua! Guarda qua! Che cazzo mi sono combinato! Guarda qua! Mi sto distruggendo le mani! Ma stasera me le mangio tutte! Le dita mi mangio! Le dita! Ah! Ciao a tutti ragà! Buonanotte!